Ciao a tutti, mi chiamo Simone Trapani, lei è Giulia Pepe, lui è Edoardo Salerno e insieme a un altro ragazzo di nome Giuseppe Vertri presentiamo il progetto Night Trip. Night Trip mira a risolvere un problema molto comune tra i giovani, ovvero quello del trasporto pubblico notturno, soprattutto il collegamento tra la provincia e la Torino città. Il giorno 27 saremo la notte dei ricercatori perché noi vogliamo scendere in campo in modo da cercare di prendere dei feedback in mezzo alla gente, attraverso dei sondaggi o delle piccole attività in modo da cercare di ottimizzare e risolvere il problema del trasporto pubblico notturno. Vi aspettiamo tutti il 27 settembre alla notte dei ricercatori nel cortile del Rettorato per conoscere il nostro progetto.